il trancio sucker questo qui è il dolce che mi avevano consigliato di realizzare per il canale youtube per avere una nuova video ricetta infatti eccola qui però l'unica cosa che io l'ho rivisitata andando un po fuori dall'ordinario perché l'ho realizzata perché giorni fa ho chiesto tutti coloro che mi seguivano su instagram quale dolce volevano che realizzavo per il nuovo video su youtube e facendo una selezione ho visto che la saga era il dolce che non avevo mai realizzato ed eccolo qui in una versione nuova rivisitata in versione trancio ed è quello che realizziamo oggi mi raccomando se non mi conosci io mi chiamo luigi franco sono uno chef pasticciere sono il creatore fondatore della pastri school una delle scuole di pasticceria pensate interamente per il web che accompagnano tutti coloro che hanno passione sono aspiranti pasticceri a conoscere in profondità tutte le tematiche e gli aspetti fondamentali della pasticceria per magari avere più sicurezza nel momento in cui si va a preparare un dolce e avere chiaramente le conoscenze giuste questo tramite la pastri school ed oggi realizziamo questo meraviglioso trancio sacre in una versione nuova quindi vediamo passo dopo passo tutte le preparazioni iniziali per poi arrivare alla composizione finale bene io direi subito di iniziare a realizzare quella che la nostra glassa al cacao che sarà la preparazione che al tempo stesso richiederà più tempo nella fase di riposo quindi io direi subito di iniziare a realizzarla prendendo il nostro pentolino andando ad inserire al suo interno quella che è la panna l'acqua lo zucchero il cacao e basta perché poi nel finale andiamo ad aggiungere anche quella che è la gelatina nel momento in cui siamo andati a riscaldare per bene la nostra glassa e a cuocerla per bene all'interno del pentolino qui la nostra glassa inizialmente dovrà arrivare alla temperatura di 101 102 gradi andando chiaramente sempre sempre a mescolare per bene il nostro composto all'interno del pentolino perché altrimenti poi il cacao rischierà di bruciare una volta che abbiamo cotto per bene alla nostra glassa ed è arrivata a temperatura possiamo andare ad inserirla all'interno del nostro brick una volta che l'abbiamo inserita all'interno del nostro brick bella lucente fluida la nostra glassa al cacao possiamo inserire al suo interno anche quella che è la gelatina idratata in acqua fredda andiamo ad inserir al suo interno e dopodiché una volta che si sarà sciolta per bene possiamo andare all'interno con il nostro bamix il nostro mini pimer il nostro mixer ad immersione per andare ad emulsionare per bene la nostra glassa una volta che chiaramente l'abbiamo emulsionata per bene è lucente senza bolle precisa e perfetta ora che cosa possiamo fare possiamo inserirla all'interno della nostra ciotola dove poi andiamo a farla riposare per bene con la pellicola a contatto in frigorifero questa qui è la nostra glassa bella lucente e perfetta per l'utilizzo finale della nostra glassa sacher ora che la mettiamo a riposo possiamo iniziare a vedere come si realizza il composto la composta dal bicocca per la farcitura della nostra sacher per realizzare la composta dal bicocca è veramente semplicissimo andiamo a prendere sempre il nostro pentolino e al suo interno andiamo ad inserire quello che è il succo dal bicocca si proprio il succo che possiamo trovare anche tipicamente a supermercato io ho già bilanciato la ricetta in modo tale che anche tu puoi utilizzarla perché il succo dal bicocca ha già una grande percentuale di zuccheri al suo interno e chiaramente ha una percentuale di frutta al suo interno in questo caso il succo che sto utilizzando al 40 per cento di frutta sto utilizzando questa tipologia di frutta perché non siamo nel periodo delle albicocche e chiaramente non tutti hanno la purea di albicocca da poter utilizzare quindi il succo dal bicocca può essere utilizzato e lo possiamo utilizzare in questa maniera qui proprio come trovi nella ricetta qui giù in descrizione andiamo quindi a riscaldare quello che il succo della bicocca all'interno del pentolino e una volta che arriva più o meno al punto di fumo ovvero tra i 60 e i 70 gradi andiamo a miscelare insieme quello che lo zucchero semolato e la pectina andiamo a miscelare l'insieme mi raccomando piccola piccola attenzione se non è la pectina NH e non vuoi acquistarla giù in descrizione ti ho lasciato anche una variante con la stessa procedura da utilizzare con la gelatina chiaramente cambierà quella che è la sua consistenza nel finale e la sua struttura in questo caso ho scelto la pectina perché mi dà una consistenza molto molto appetitosa nel finale e apprezzata durante la degustazione quindi una volta fatta la miscela andiamo a prendere i due ingredienti e andiamo ad inserire all'interno del pentolino scaldando energicamente quello che è il nostro succo d'albicocca all'interno fino che arriviamo a bollore una volta che siamo arrivati a bollore andiamo a spegnere il fuoco e andiamo ad inserire al suo interno quello che è il succo dell'albicocca freddo andiamo a miscelare per bene passiamo il tutto al setaccio inserendolo all'interno della nostra ciotola e dopodiché pellicola a contatto e siamo pronti per farla freddare questa è la procedura per poter realizzare la nostra composta d'albicocca ora vediamo come si realizza la ganache al cioccolato fondente la ganache al cioccolato fondente in questo caso un cioccolato fondente al 70 per cento quindi qualcosa di veramente super goloso fondente giusto giusto e ideale per la stagione invernale e chiaramente per realizzare quella che è la sacher per realizzare la ganache veramente ci bastano pochissimi ingredienti dove all'interno del pentolino perché useremo sempre il pentolino andiamo ad inserire quella che è la panna lo zucchero semolato e il miele e portiamo il tutto a bollore nel frattempo andiamo ad inserire il cioccolato fondente all'interno della nostra caraffa e una volta che la panna è arrivata a bollore con lo zucchero e il miele possiamo versare il tutto all'interno della nostra caraffa dopodiché che cosa facciamo andiamo ad utilizzare lo strumento per eccellenza per unire quella che è la panna e il cioccolato fondente andiamo ad emulsionare per bene all'interno della caraffa e una volta che si sono miscelati per bene possiamo unire quello che il burro morbido e a temperatura ambiente per morbido intendo tra i 18 e 20 gradi molto importante la temperatura mi raccomando andiamo a versare il tutto al suo interno e continuiamo ad emulsionare questa è una struttura super cremosa liscia e lucida ed è quello che devi avere anche tu nel momento in cui la vai a realizzare fatta questa operazione qui diciamo che siamo pronti possiamo prendere la nostra ganache possiamo versare all'interno della nostra ciotola mettere la pellicola a contatto e farla riposare per bene fatta questa operazione qui ora tutti i nostri composti si iniziano iniziano a riposare per bene mi raccomando segui tutta la procedura che stai vedendo passo dopo passo in questa video lezione e ora possiamo iniziare a realizzarci quello che è il nostro biscotto morbido al cioccolato fondente cacao per la nostra sacchere il biscotto sacchere l'elemento fondamentale del trancio quindi mi raccomando vediamo passo dopo passo come si realizza nel migliore dei modi qui adesso andremo a far lavorare separatamente quelli che sono gli albumi e i tuorli nella planetaria andiamo ad aggiungere l'albume e lo facciamo lavorare singolarmente senza nessun ingrediente per alcuni minuti da solo per incamerare l'area necessaria per il nostro biscotto sacre dopodiché andiamo ad aggiungere tutto lo zucchero semolato che fa parte per la montata di albumi separatamente nel bimbi se non è un bimbi non è un problema puoi usare qualsiasi tipologie di mixer andiamo a lavorare i tuorli e lo zucchero semolato per alcuni minuti dopodiché andiamo ad aggiungere quelle che sono le polveri l'olio e la panna che fa parte della ricetta una volta che nel finale il composto che all'interno del bimbi ha raggiunto una struttura compatta cremosa e sostenuta possiamo inserirla all'interno di una bulla di una ciotola e andare a prendere la nostra schiuma di albumi ben montata cremosa ma non troppo montata dove andiamo a prendere una piccola parte degli albumi e andiamo ad aggiungere all'interno della ciotola e da qui andiamo ad amalgamare il tutto per bene finché non arriviamo alla consistenza ideale cremosa da poter prendere tutto il composto ed aggiungerlo agli albumi che abbiamo lasciato all'interno della planetaria adesso dobbiamo andare dal basso verso l'alto mi raccomando dal basso verso l'alto ad amalgamare quello che è quello che il composto che abbiamo lavorato con il bimbi e con una piccola parte di albumi con tutti gli albumi che sono rimasti all'interno della planetaria dal basso verso l'alto dal basso verso l'alto boom il nostro biscotto sacro è pronto adesso che cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere l'impasto e inserirlo all'interno di un silpat con quello che sto utilizzando io un silpat veramente classico che si può trovare ovunque adesso su su per il web con i bordi in modo tale che possiamo poi avere una livellatura semplice ed efficace per poi avere il biscotto perfetto nel finale andiamo a stenderlo per bene e poi andiamo in cottura a 175 gradi per 18 minuti all'incirca una volta che il nostro biscotto è pronto possiamo iniziare a comporre nel finale tutto il nostro dolce ora direi proprio di assemblare quello che il nostro trancio sacer dobbiamo prendere uno stampo rettangolare 20 centimetri di lunghezza 12 centimetri di larghezza e 4 centimetri di altezza andiamo a creare quelli che sono i nostri biscuit prendendo la forma del nostro stampo rettangolare e una volta che abbiamo ritagliato la forma dei nostri biscuit possiamo iniziare a comporre quello che il nostro dolce una volta che siamo pronti con la nostra composta dal bicocca possiamo inserirla all'interno della sac a poche e andrà a dressarla filo dopo filo e dressaggio dopo dressaggio sopra il nostro biscuit al cacao una volta che abbiamo completato tutta la stesura della composta possiamo finalmente andrà ad inserire in superficie quello che è l'altro strato del biscuit al cacao veramente super soffice fatta questa operazione qui ora è il momento della ganache la ganache che cosa abbiamo fatto l'abbiamo fatta riposare per bene in frigorifero e una volta che chiaramente ha cristallizzato l'abbiamo riportato alla temperatura tra i 30 gradi in modo tale che sia più o meno fluida per poterla poi inserire nella superficie del nostro biscuit quindi poi siamo andati a prendere una sac a poche abbiamo inserito all'interno quella che è la nostra ganache e siamo andati a distribuirla sulla superficie del nostro stampo abbiamo livellato per bene quello che è lo strato della ganache e una volta che abbiamo concluso questa operazione possiamo dire che il nostro trancio è pronto e ben assemblato l'unica cosa che manca adesso è andare a glassare quello che il nostro trancio sacer però prima dove andrà far riposare in frigorifero per bene almeno nel congelatore per almeno 20 30 minuti tutto il nostro trancio per quanto riguarda la glassa ora la dobbiamo portare alla temperatura di 34 35 gradi con l'aiuto del bamix senza incamerare bolle d'aria al suo interno una volta che la nostra classe è arrivata la temperatura ideale possiamo iniziare a rilassare quello che il nostro traggio ci prepariamo per bene la postazione mi raccomando lavoriamo puliti e ordinati perché è fondamentale per fare un lavoro veramente ottimale e adesso possiamo iniziare a glassare quello che il nostro trancio proprio in questa maniera qui questa è la glassa al cacao veramente super fluida buona e spettacolare nel momento in cui poi andremo a degustare ma non è finita qui perché adesso arriva la parte più bella adesso dobbiamo iniziare a tagliare i nostri tranci una volta che abbiamo fatto questa operazione qui possiamo poi iniziare a prepararci la postazione andare a prendere quello che il nostro trancio sa che è rilassato e iniziare a rifilare prima i lati e poi andiamo a tagliare trancio dopo trancio dopo trancio dopo trancio questa è la nostra soccer nel finale ma adesso che abbiamo tagliato i nostri tranci sono venuti veramente in una maniera ottimale super belli buoni golosi non vedo l'ora di assaggiarli e di condividerli ma manca la cosa fondamentale ovvero dobbiamo andare adesso a decorarli con le nostre bracchettine di cioccolato veramente super semplici andiamo a metterli uno ad uno su in superficie proprio come stai vedendo adesso e dopo i nostri tranci sono pronti possono essere degustate questi tranci qui devono essere degustate alla temperatura di 4 gradi questo è il nostro trancio sacre nel finale possiamo dire che la torta è veramente ricca di cioccolato e di cacao quindi è un gusto molto caldo e astringente su alcuni punti di vista però poi la nostra è composta dal bicocca va a diciamo a spezzare questa questo gusto caldo come il cioccolato andando a dare uno sprint di acidità e ci aiuterà a degustare veramente nel migliore dei modi questa torta sacer anzi più che torta è un trancio sacer veramente particolare semplice elegante da poter condividere con chi vogliamo perché nel periodo invernale la torta sacer il trancio sacer non può mancare e questa qui è una semplice rivisitazione questa è il nostro trancio sacer se ti è piaciuto il video e hai trovato utile tutti i contenuti che abbiamo condiviso all'interno di questa videoricetta mi raccomando lascia un like iscriviti al canale e ti aspetto nella prossima puntata ciao